La mattina io volevo fare una situazione piuttosto drastica che standi qua su questo immobile e non muovermi, poi pensandoci, siccome mi sono sentito male, ho dovuto chiedere, ho fatto male per ritrovare. Come vedete qua sono demolente tutto, sono moltificato, sono addolorato, non ho parole per spiegare queste situazioni. Non hanno voluto sentire niente di terra. Cosa rappresentano quella cosa? Cosa rappresentare oggi? C'era un posto dove andare a chiedere oggi. Non trovo il posto, non trovo la terra, quindi ci sono problemi per questo. Però la mia casa mi era questa, me l'hanno già sassuola. Cosa rappresentare oggi? Cosa rappresentare oggi? Cosa rappresentare oggi? Cosa rappresentare oggi? Grazie a tutti